Nell'antica Grecia nasce il mito dei cavalieri. I cavalieri dello Zodiaco! Sei dello Zodiaco! Pegasus! Vieni! Crystal! Silenzio! Questi cavalieri erano invincibili guerrieri e combatterono la gloriosa battaglia del Peloponneso diventando così... Un mito di Pegasus! Ovetti dei cavalieri dello Zodiaco! Doppio cioccolato, doppia energia! E in ogni ovetto trovi sempre un personaggio da collezione! Ce n'è per tutti! Ovetti dei cavalieri dello Zodiaco! Da Dolci Preziosi!